Vanni Lenna, coordinatore regionale di autonomia responsabile, è partita quest'oggi da Tolmezzo una campagna di informazione, l'avete soprannominata che poi toccherà tutte le altre piazze della regione, con quali obiettivi? Siamo preoccupati e d'altra parte abbiamo letto sulla stampa in questi ultimi mesi questa deriva verso un nuovo centralismo sia regionale che a livello statale. Le notizie di orini del giorno approvati al Senato che prevedono il dimensionamento, la riduzione delle regioni, l'accorpamento della nostra regione col Triveneto, certamente non ci fa essere tranquilli. Tanto più la vicenda dei lutti a livello regionale dove con una antidemocratica legge si è voluto passare sopra le teste degli amministratori e dei cittadini. Il prossimo anno ritornano le comunali, i vostri colleghi di coalizione Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega Nord si sono già mossi, voi come pensate di preparare queste nuove campagne elettorali? Le vogliamo preparare assieme ai cittadini perché siamo convinti che solo attraverso loro e i loro bisogni e le loro necessità e le loro idee possiamo proporre un programma attuativo, interpretabile, un programma realizzabile su cui andremo a confrontarci nella campagna elettorale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.